Il taglio di ritorno è una tecnica molto particolare e forse la più semplice per potare qualunque tipo di pianta. La linfa deve sempre scorrere dalle radici alla punta più estrema di ogni singolo albero, quindi nel nostro caso i rami. Noi non possiamo interrompere il flusso della linfa perché altrimenti andiamo a fare la capitozzatura, ma ho fatto un video apposta proprio su questo. Ipotizzando di avere questo ramo, come vedi è lungo, è pesante, il taglio di ritorno ci dice che toccando il tronco il primo ramo che abbiamo di almeno la dimensione mezza del tronco a cui è attaccato è il nostro ramo buono. E questa è la potatura giusta, se vedi hai tolto tutta la parte sopra ma la linfa continua a scorrere. Potevamo scegliere questo ramo? No, perché non è almeno della metà del diametro del ramo a cui è attaccato.